Chiara Colosimo è la nuova presidente della Commissione Antimafia, un'elezione non senza polemiche. L'esponente di Fratelli d'Italia è passata con il solo voto dei partiti di maggioranza. I parlamentari del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno abbandonato l'aula perché, contraria alla candidatura della Colosimo, ritenuta inopportuna. Per i partiti di opposizione la scelta rischia di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'istituzione delicata e importante per la democrazia.